Musica Bentornati a tutti voi, la panchina è il nuovo titolo della nostra trasmissione perché su una panchina possono succedere e accadere incontri bellissimi come questo non mi riferisco a Erika alla quale comunque do il benvenuto, ciao bentornata ciao Francesco grazie Ilaria ciao benvenuta benvenuti a voi ma mi riferisco a Brillantina, guardate una panchina con una bellissima cucciola che dire? che dire di lei? Lei arriva dalla Sicilia, dalla bellissima Palermo ha tre mesi, tre mesi e mezzo, è una futura taglia media abbondante e nulla, è una dei tanti cuccioli che arriva da noi in cerca di fortuna e per i quali ricordiamo che ovviamente me essendo una cucciola ci vuole un pochettino più di pazienza i cuccioli comunque nella loro crescita sperimenteranno, rosiccheranno, abbayeranno quindi noi vi invitiamo sempre ad avere la consapevolezza che nel momento in cui adottate un cucciolo ci vuole qualche accortezza in più, un pochettino di pazienza e nulla che non si possa risolvere con tanto amore quindi veramente adottate consapevolmente noi vogliamo che i cani, adulti o cuccioli che siano, nel momento in cui escono dalla nostra struttura non tornino e che se ci dovessero essere delle problematiche sappiate che ci sono figure professionali, me, colleghi, insomma chiunque, i problemi si risolvono come tra tutti noi dovrete assolutamente dotarvi di un milione di carezze perché ogni sera, ogni giorno lei vi verrà incontro, vi saluterà contenta di rivedervi tutti i giorni, assolutamente tutte le volte che vi vedrà quindi carezze a gogo un ringraziamento che ha adottato Arley abbiamo una bellissima notizia tra le varie adozioni che ci sono state è stata adottata Arley ed è stata adottata Maya, la pastore tedesca non più giovanissima è andata in una bellissima casa con Giardino con un fratellone, anche lui pastore tedesco la buona notizia dunque è che le nostre presentazioni e il lavoro che voi state sviluppando nell'ex Ramondetti incomincia ad ingranare questo è il termine che hai utilizzato prima io ribalto ai nostri telespettatori sì, piano piano le persone iniziano a conoscerci vengono a conoscere i cani cerchiamo per ogni famiglia il cane adatto ogni cane non è adatto a ogni contesto quindi in base alla vita che fate, alle ore che potete dedicare conosciamo i cani presenti in struttura quindi sappiamo indicarvi qual è il più idoneo non per presunzione ma semplicemente perché vogliamo appunto che un cane che venga adottato non torni più indietro da oggi poi daremo vita adotta un canile perché a Siracusa tu segui un canile che ha bisogno di aiuto a 360 gradi esatto, è un canile che è nato diversi anni fa quando mi sono trasferita in Sicilia dove a me ho visto di tutto e di più terra meravigliosa ma per i cani purtroppo non è proprio così quindi ci sono circa una quarantina di cani di cui io mi occupo da tanti anni molti anziani, molti malati, molti fobici insomma c'è un po' di tutto però insomma anche loro hanno lo stesso diritto degli altri di vivere quindi me ne occupo io personalmente e nulla, speriamo che appunto ci possa essere questo aiuto per loro da parte... assolutamente faremo possibile a questo punto Ilaria si è pronta a presentare i nostri amici? sì, sono prontissima partiamo con la rassegna e lei è brillantina, si è addormentata nel frattempo bene, partiamo con la rassegna lui è Fido nell'area Sgambo dolcissimo dolcissimo, circa un anno, un anno e mezzo è arrivato qua con la sorellina Luna e nulla che dire è il classico cane nero, è vero ma non per questo è meno bello degli altri cani non è meno dolce, anzi è assolutamente affettuoso un cagnolino adatto a qualsiasi contesto familiare non cani maschi, però sia femmine con tutto il cuore e adatto a contesti con bambini, con persone anziane insomma, il classico cagnolino tranquillo, buono, non è invadente insomma, il cane è perfetto il cane è perfetto per qualsiasi contesto l'adozione libera un box libera gli sgambi lascia spazio ad altri cani che purtroppo continuano ad arrivare dal sud e questo flusso è ininterrotto esatto, abbiamo moltissime richieste di cani che appunto attendono di entrare però giustamente abbiamo un tot di posti quindi nel momento in cui viene adottato un cane abbiamo la possibilità di farne entrare un altro che ha bisogno chissà quali storie dietro un aschi che proviene da Palermo e col figlio che però è scuro esatto, abbiamo nuvola a destra e nerino a sinistra nuvola a 9 anni, nerino a 7 arrivano da Palermo sono molto affietati motivo per cui cerchiamo ovviamente un'adozione di coppia se fosse possibile arrivano da un contesto casalingo una rinuncia di proprietà quindi sicuramente ritrovarsi in un box per loro è ancora più difficile magari rispetto a un cucciolo o a un cane più giovane quindi chiediamo magari a chiunque abbia un pezzettino di giardino e un po' di amore da donare ecco questa è la... è come regisce un cane vorrei uscire vorrei uscire il messaggio è chiaro esatto quindi chi magari ha un pezzettino di giardino e un cuore da poter offrire a questi due cagnolini l'ideale appunto sarebbe adottarli insieme sono bellissimi, equilibrati insomma anche loro meritano di passare i loro anni in una famiglia oggi coccole carezze per Siria domani coccole sul divano oggi sulla panchina domani sul divano è quello che ci auguriamo ogni volta che presentiamo uno dei nostri cani lei è Siria una dolcissima cagnolina di circa 7-8 anni e niente Siria è il cane da divano cioè lo metti lì incominci a farle le coccole lei non si muove più quindi perfetta la storia di Siria? Siria è la classica cagnolina insomma non più voluta e di conseguenza messa in un rifugio con la speranza che qualcuno se ne innamori fondamentalmente quindi noi oggi la proponiamo sperando che possa colpire qualcuno di voi lei comunque ha 7-8 anni è una futura taglia media va benissimo al guinzaglio è una cagnolina sembra che rida solare è piena di energia e nulla è un cane come tanti e come tutti merita di essere amata di essere portata a casa messa sul divano e insomma coccolata a dovere bene lui è junior il green carpet e la passeggiata i volontari sono fondamentali per dare spazio e respiro ai nostri amici i volontari sono la chiave del successo di ogni struttura nel senso che grazie ai volontari i cani imparano a socializzare con diverse persone imparano a andare al guinzaglio che è la cosa più importante in un contesto cittadino sicuramente è basilare questo quindi chi viene ad adottare e chiede di un cane sicuramente l'idea che sappia già andare al guinzaglio è sicuramente un valore aggiunto piuttosto che un cane a cui bisogna insegnare a farlo quindi i volontari sono la base e dobbiamo tutto a loro anche grazie a loro delle adozioni insomma al passaparola vengono ci portano le coperte ci portano le crocchette ci aiutano con le scatolette ci aiutano a fare le raccolte alimentari insomma sono veramente dei soggetti indispensabili per noi quindi grazie mille sempre a tutte le persone che dedicano il loro tempo a titolo gratuito nel benessere degli animali e chi vuole diventarlo può telefonarti assolutamente sì volontari non si nasce si diventa quindi anche chi non ha mai avuto un cane può essere d'aiuto e non si vuol portare fuori magari il cane perché non lo so capita a volte qualcuno che arriva dice ma io spesso male al ginocchio come faccio? perfetto magari ci do una mano l'abbiamo le ciotole spazzoliamo i cani insomma da fare ce n'è sempre non ci si annoia mai quindi chiunque abbia voglia di dedicare un po' di tempo ai nostri cani nei tempi e nei giorni in cui ovviamente ha la possibilità noi siamo sempre aperti sempre ben accetti e si crea poi alla fine anche un rapporto di amicizia con molti di loro e tu con tante coccole con tante coccole e tanto amore concludiamo concludiamo con un appello Vicky è già stata presentata ne abbiamo già raccontato la storia ve la ripresentiamo sto soffrendo tantissimo il box a tal punto che si ferisce sul muso motivo per cui tu hai voluto chiudere con lei perché deve assolutamente trovare una soluzione dolcissima quindi io garantisco la conoscenza Vicky sì come era già stato detto in precedenza arriva dalla Tunisia circa 5 anni e più di altri cani lei patisce la reclusione se osservate il suo musino potrete trovare delle crosticine perché lei costantemente cerca di uscire dal box l'altro giorno l'abbiamo fatta arrivare in ufficio dopo un po' abbiamo visto del sangue sulla coperta ci siamo accorti che aveva grattato talmente tanto con le unghie da essersele consumate arrivare fino appunto al sangue quindi lei più di altri patisce la reclusione in una maniera davvero importante quindi vi chiediamo nuovamente per lei un'adozione come figlia unica lei è buonissima solo la necessità di dare tutto questo immenso amore che ha e che purtroppo fino ad oggi non ha avuto la possibilità di dimostrare ecco lei vuole solo il contatto fisico nient'altro quindi veramente chi ha un angolino a casa che ha insomma abbia voglia di donare amore a questa creatura venga a conoscerla e sicuramente vi colpirà perché la discriminazione alla quale sono sottoposti i malossi a volte è ingiustificata come in questo caso lei da conoscere da frequentare l'adozione di un cane adulto è un passaggio di volontariato se vogliamo è vero ma farà bene a voi fa bene a lei e quindi il mio appello per l'adozione del cane adulto è assoluto assolutamente sì chi adotta un cane soprattutto un adulto in difficoltà cambia davvero la propria vita e quella del cane quindi ve lo chiedo davvero col cuore in mano venite a conoscerla e saprà conquistare anche voi con la sua dolcezza bene a questo punto concludiamo ricordiamo il canile che sta aiutando a Siracusa quindi chi vuole darti una mano ti può telefonare noi ci saremo e faremo pubblicità a tutti coloro che faranno qualcosa a questo punto alla prossima volta grazie sempre infinitamente per la possibilità che date ai nostri cani Ilaria grazie alla prossima grazie a voi alla prossima grazie a tutti voi per il tempo che ci dedicate ai nostri amici e la pazienza a questo punto buona adozione a tutti e rivediamoli comunque ai nostri amici grazie a tutti e ora un grazie di cuore ai sostenitori nazionali del nostro programma Codecray Ovest Deutsche Bank Easy nelle sedi di Milano Torino Cuneo Autostandard concessore DR Evo di Torino AIAV Associazione Italiana Agenti di Viaggio la geleria Ciaudano di Chieri e Monte Carlo l'Automobile Club Torino